ciao a tutti amici amiche di quinta dimensione letture video proprio fatto per voi su grandissima richiesta che mi avete bombardato letteralmente per questa luna nuova quindi ve lo preparo fortunatamente oggi ero abbastanza libera ero a casa proprio per diciamo come giornata un po più libera ma avevo messo un post nella community ok per chi interessa anche la frase della luna nuova che avevo intenzione di fare il mese prossimo proprio per impegni che avevo avuto questi giorni però ve lo metto magari un po più corto l'importante tanto è la frase che possiamo recitare quindi oggi che c'è la luna nuova ma qualsiasi giorno tu apri il video e vedi quando c'è la luna nuova lo puoi fare qualsiasi mese tutti i mesi è chiaro no in concomitanza con la luna nuova cosa c'è di diverso dagli altri video per chi di voi ha visto gli altri miei video della luna piena e della luna calante il fatto della luna nuova sapete benissimo che capita una sera quindi io ho preso comunque la nostra genesa per mettere l'intento con il post it dentro per rafforzare ok per dare più potenza alla parola magica alla frase che vi andrò ad illustrare vi ricordo che sta anche della community del mio canale però qui la differenza è che dura poco ragazzi quindi questo video va fatto la sera della luna calante volendo per chi vuole io di solito lo faccio anche la sera prima della luna calante perché c'è un'energia proprio che che tira è che molto è molto forte anche la sera prima quindi la sera prima la sera della luna calante la sera dopo sicuro io quei diciamo tre giorni ecco questi tre giorni qua prima il giorno prima poi quando c'è la luna nuova e poi anche il giorno dopo chi vuol fare anche il giorno successivo lo faccia finché non vede il primo comparire della luna finché non vedi la luna ok che inizia a crescere quindi poi ti devi fermare vedi tu insomma ricordo a tutti le parole sono prese dai libri di cristiano tenka quindi a lui vanno i crediti e tutti l'eroe altissima di qualsiasi cosa e lui stesso dice infatti che questa diciamo questa frase va recitata finché non si vede la luna cominciare ok a crescere quindi dura di meno rispetto agli altri video però va bene ogni mese in fase di luna nuova lo potete fare iniziate anche la sera prima volendo quindi vedete voi quindi vi dico la luna la frase per la luna nuova poi vi dico anche un messaggino cosa c'è per voi oggi dei miei oracoli canalizzati messaggi divini scegliete un cuoricino la prima stesa il cuoricino giallo la seconda stesa il cuoricino nero terza stesa il cuoricino vediamo un po se era bianco azzurro è azzurro ragazzi azzurro chiaro è perché ce l'ho anche bianco da qui mi sembrava allora questo è azzurro chiarissimo ok giallo 1 nero 2 azzurro chiaro la 3 allora partiamo subito visto che è un video che mi sono proprio precipitata a farvi perché ho visto che lo volevate molto quindi dopo mi sento che ve lo devo fare perché quando vedo questo affetto io poi devo ricambiare allora la frase è ve la metto in sovraimpressione ok sapete che la luna nuova ci aiuta nel rinnovamento nel piantare dei nuovi propositi ok io adesso vi leggo la frase poi vi dico cosa serve la frase è questa cum luna nuova hoc inutilis est relinquo cum luna nuova hoc inutilis est relinquo cum luna nuova hoc inutilis est relinquo leggete le descrizioni del video dove spiego come si fa ok vale per tutte le lune per tutte le parole magiche anche senza luna eh le parole magiche si recitano dalle tre alle cinque volte diciamo tre volte al giorno in tre momenti diversi c'è chi l'ha fatta anche una volta solo al giorno e ha funzionato lo stesso sentite voi che cosa dovete fare al di là delle istruzioni va bene sentite voi fate alcune prove provate che ne so un mese provate dalle tre alle cinque volte al giorno un altro mese magari avete un po da fare provate anche una sola volta al giorno cioè dipende vedete che cosa vi si realizza voi perché non vale per tutti eh non è per tutti uguale alcuni hanno un tipo di energia altri ne hanno altre quindi dipende molto questo eh allora con la luna nuova andiamo a chiedere come ho scritto nel post in community quindi queste parole magiche servono per trasformarci e rigenerarci piantare un seme per il futuro sostenere germogliare del nuovo iniziare bene qualcosa di nuovo abbandonare ciò che del passato non è più funzionale la nostra felicità ed evoluzione quindi del presente abbandonare tutti gli aspetti in noi stessi che ci tengono inconsapevolmente nell'inganno delle illusioni del mondo materiale quindi in questa terza dimensione dove viviamo aumentare la chiaroveggenza chiaro udienza chiaro sentienza risvegliare la parte intuitiva più profonda far cessare il conflitto interiore lasciare andare le incomprensioni del passato ok quindi serve proprio per piantare la novità ringraziate sempre ok ringraziate la luna nuova vi rivolgete anche la luna nuova uscite fuori la guardate dite gli grazie luna ok grazie luna nuova per anche per tutto quello che già di bello ho nella mia vita perché il potere della gratitudine fa i miracoli non dite le frasi con il non davanti e quindi non voglio conflitti ok non voglio essere lasciata non dite il non ringraziate solo dite grazie per tutte le cose belle che ho già nella mia vita grazie 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 l'universo ai grazie risponde con abbondanza ragazzi è così allora prima di leggere i messaggi velocemente vi ricordo la genesa chi ce la ha può inserire questa frase che vi ho letto prima in un post it scritto in stampatello sempre stampatello con la penna nera stampatello penna nera lo mettete dentro la genesa per un giorno se la volete fare il giorno prima della luna nuova il giorno della luna nuova e il giorno dopo della luna nuova quindi tre giorni comunque sia lo mettete un'ora al giorno ok un'ora al giorno poi il giorno dopo un'altra ora il terzo giorno un'altra ora va bene e chiaramente la genesa potenziano trasforma trasmuta cioè potenzia quello che c'è scritto dentro quella frase mi raccomando mi raccomando l'intenzione perché l'universo capta quello che pensi anche se qua scrivi una cosa bella e scrivi una cosa magica ma la tua diciamo presenza anche la tua presenza io sono se tu non sei lì non sei presente o comunque non c'è un intento chiaro una determinazione da parte tua la parola magica non ti funziona e non c'è a dar la colpa a tenka questo a quell'altro qui dipende molto chi fa le cose perché a tanti funzionano a tanti no cioè dipende molto dalla base di partenza e la base di partenza sei tu allora ti vado a prendere abbiamo caricato un pochino queste ti vado a prendere quindi iniziamo perché ha scelto il primo cuore quindi cuore giallo il consiglio per te qual è un consiglio perché ha scelto il cuore giallo cosa deve sapere qui il cuore giallo chi ha scelto cuore giallo sono con te chiamami tre volte numero 34 gli angeli maestri ascesi sono con te in questo momento quindi cuore giallo sei in compagnia ok chiama tre volte che sia il tuo angelo gli dici angelo vieni angelo vieni angelo vieni io preferisco il plurale perché abbiamo molte più entità intorno a noi di solito quindi io direi angeli venite angeli venite angeli venite ma fai quello che ti senti tu va bene anche angelo al singolare o angeli al plurale se hai un defunto che senti particolarmente vicino chiama il nome del defunto e poi aggiungi vieni ok dopo il nome vieni qua tre volte il numero 34 o anche 43 qui ci sono delle presenze vicino a te quindi è anche un affetto questo è un abbraccio che ti arriva oggi un bacio dal cielo che vuole dirti che c'è quindi abbiate fiducia abbi fiducia ok perché sei molto amata o amato è qua angeli e maestri ascesi anche quindi per chi di voi è in cammino e sta facendo un cammino spirituale c'è anche qualche maestro asceso è qua che vi sta aiutando che sta facendo la fiamma viola è molto probabile che sia anche diciamo in compagnia di san germen ogni tanto è quindi cioè voglio dire quindi vedete voi con chi che cosa state lavorando sempre esseri di luce chiaramente per il resto perché gli altri non vi conviene e ve lo dico lavorate sempre solo con la luce e vedrete vedrete i risultati la fede tantissima ragazzi è solo con la fede si riesce solo con la fede cuore giallo ciao lasciami like il video iscriviti anche al canale proseguo con il cuore nero chi ha scelto la stesa 2 il cuore nero che messaggio c'è da dare chi ha scelto il cuore nero cosa c'è da dire chi ha scelto il cuore nero realizzazione intuizione potere personale agisci ora andrà tutto bene i numeri per te sono 222 222 quindi qua ti dice di agire che andrà tutto bene ok hai delle intuizioni in questo momento molto forti quindi probabilmente tu lo sai che intuizioni stai avendo è e c'è per te presto una realizzazione di quello che vuoi ok perché sei entrata probabilmente ho entrato in un circolo ok di potere personale hai un'energia in questo momento che attira ok quello che vuoi oggi quindi particolarmente bene ti va a te la frase della luna nuova perché sei molto magnetico magnetico oggi quindi qui ti dice agisci ora infatti qui ci dice proprio la parola ora sapete che io faccio caso a tutto è pure le virgole qui ci è venuto fuori ora se tu ascolti questo video anche in un altro momento questo 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 messaggio va bene qualsiasi giorno anche diciamo scollegato dal fatto della luna nuova questo è un messaggio che va al di là di ogni cosa va bene quindi se apri questo questo video anche in un giorno che non c'è la luna nuova il messaggio vale lo stesso e vale anche per tutte le altre stese ragazzi i messaggi valgono sempre questi divini i miei messaggi divini oracolo canalizzati quando vi arriva questo deve arrivare non c'entra la luna quindi ora devi fare qualcosa devi agire se avevi in testa di fare qualcosa è il momento buono c'è per te una realizzazione e ti dice anche che andrà tutto bene vedi se questi numeri ti dicono qualcosa se è un giorno particolarmente fortunato se è la data di qualcuno a cui stai pensando possono essere molte le cose qua quindi è un messaggio positivo per te questo è cuor nero mi raccomando agisci ora eh allora lasciami un like il video e iscriviti anche al canale io proseguo con il terzo cuore il cuore azzurro chiaro che sembra bianco ma è azzurro chiaro vediamo un po' che messaggio c'è perché ha scelto la stesa 3 cuore azzurro chiaro la magia divina ti sta aprendo nuove opportunità 777 otterrai un risultato insperato ragazzi qua c'è la magia c'è altra volta la parola magia come le nostre parole magiche quindi qua credo che sei abbastanza che attiri eh comunque sia c'è una buona ti dire qua dentro una buona energia 777 sono i numeri per te qui c'è un risultato che ti arriva a cui non speravi eh e tra l'altro anche forse oltre a quel risultato che tu stai aspettando ci sono anche nuove opportunità ti dice qua la magia divina ti sta aprendo nuove opportunità probabilmente sei una persona che si è rivolta eh agli angeli ed esseri di luce hai chiesto hai pregato hai anche mandato luce magari stai anche tu in cammino stai facendo un percorso spirituale magari hai chiesto e ora finalmente come tutti quelli che fanno un percorso veramente serio di crescita di cammino personale ma sottolineo serio come tutti questi i risultati li vedrai li vedi e li vedrai quindi qua c'è scritto anche un risultato insperato che probabilmente è la cosa che più ti sta a cuore però oltre a questo risultato ci dice anche nuove opportunità quindi anche qualcos'altro c'è ti sta aprendo qua devi essere ricettiva ricettivo eh qua c'è magia divina qua ci sono delle operazioni ragazzi qui stanno facendo delle operazioni da qualche parte eh questi angeli eh chissà cosa fanno stanno collaborando perché collaborano l'entità tra di loro eh in base a quello che tu diciamo o vuoi a quello che tu chiedi ma anche sempre e solo se è in linea chiaramente con il tuo percorso che sei venuto a fare su questa terra eh nessuno cammuffa i percorsi di nessuno qua neanche gli angeli neanche nessuno nessuno la tua lezione deve essere comunque fatta anche dolorosa che sia però poi possiamo anche essere aiutati e alleviati in questa lezione eh questa è la differenza di chi comunque prega diciamo chi fa i decreti di chi comunque parla con gli angeli eccetera eccetera la differenza è questa nessun angelo ti toglie il percorso da fare in questa vita però ti aiuta che e che non è poco allora cuorazzurro lasciami un like il video e iscriviti anche al canale se non ti sei ancora iscritta o iscritto invito tutti quelli che hanno visto il video della fortuna e dell'abbondanza quindi del codice sacro ok 4418 che ho messo nel mio canale e quindi ci sono quei numeri da giocare oggi cade proprio la seconda giocata per chi sta giocando e quindi vedete voi vi ricordatevi magari se volete di giocarli ma quando apri il video tu che ascolti va bene qualsiasi giorno ok se tu ti trovi in quel video magari non escono i numeri quando io l'ho caricato possono uscire dopo un mese cioè qualsiasi giorno tu apri un video ho messo il decreto che va comunque fatto per l'abbondanza fortuna eccetera eccetera leggete le le istruzioni che metto perché io nell'info box scrivo quello che faccio ok vi documento le cose va bene non è solo sentire un video leggete anche sotto quindi il decreto il codice sacro 4418 più alla fine tiro fuori dei numeri ok che possono uscire qualsiasi momento va bene al di là di quando metto il video quindi possono uscire chissà quando quando tu apri se ti senti fortemente ispirato di giocare li giochi se non escono quando ti risenti ispirato va bene vedrai che ti arriverà quella campanellina che ti dice che è ora di giocare quei numeri là ragazzi ragazze grazie a tutti mi raccomando per chi piace queste parole magiche le faccia guardatevi nel mio canale anche altre formule parole magiche sempre di Cristiano Tenka vi mando un grandissimo abbraccio e grazie di essere stati qui con me su Quinta Dimensione Letture vi aspetto presto in un prossimo interattivo ciao a tutti grazie a tutti